Proseguono gli appuntamenti del Festival Starry Night Science Digital Art and Fest. Ieri è stata la volta di Roberto Ragazzoni, presidente dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha tenuto una lezione sul tema Esplorare l'Universo con i grandi telescopi presso la SparkMe Space Academy di Matera. L'evento ha raccontato l'evoluzione dell'osservazione astronomica sia da terra che dallo spazio con telescopi come Hubble e Webb. Conosciamo ancora troppo poco dello spazio. Conosciamo pochissimo dello spazio, conosciamo meno pianeti attorno a stelle vicine di quante stelle non si vedono d'occhio nudo. Quindi in un certo senso per i pianeti attorno ad altre stelle, i mondi fuori dal nostro sistema solare, siamo in un'epoca pre-galileiana e nell'Universo misuriamo la posizione, il movimento delle galassie e ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non torna e potrebbe essere che il grosso di quello che non vediamo sia nascosto da qualche parte in una forma che ancora non conosciamo. Perché è importante parlare di spazio, educare, formare rispetto allo spazio e quindi quello che non vediamo? È importante sotto diversi punti di vista. Noi non cerchiamo di formare solo astronomi, noi cerchiamo di dare una formazione scientifica a questi ragazzi in modo che possono essere preparati ad affrontare le grandi sfide tecnologiche del domani perché una società che non sappia svilupparsi dal punto di vista tecnologico è una civiltà che non cresce, che non va avanti. Il festival, iniziato l'8 luglio, è stato organizzato dalla Spark Me Space Academy in collaborazione con INAF, ESA, ASI e con il patrocino della regione basilicata, provincia e comune di Matera. Otto appuntamenti programmatico, prendo scienze, digitale, arte, musica, creatività interattiva e gastronomia. Tra gli eventi già svolti si ricordano la tredicesima edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia, Scuola di Stelle dall'8 al 12 luglio, la presentazione del libro Altre Terre di Giovanni Covone l'8 luglio e Troppa luce fa male di Patrizia Caraveo il 9 di luglio. Gli appuntamenti proseguono fino alla 25 di luglio.